I carabinieri sono sulle tracce di Adelfio Perticari, 46 anni, ritenuto dalla DDA personaggio vicino al clan Ventura di Camaro. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, il killer che la mattina del 9 aprile scorso avrebbe ucciso con due colpi di pistola il ventenne Giuseppe De Francesco, figliastro del boss Giovanni Tortorella, oggi in carcere a Gazzi. Nella tarda mattina da ieri intanto sono scattate le ordinanze di custodia cautelare a carico di Giovanni D'Arrico, 39 anni, e Rosario Macari, 23 anni. I due sono accusati di favoreggiamento e si trovano ai domiciliari. Questa mattina all'interrogatorio, secondo quanto stabilito gli investigatori, D'Arrico e Macari avrebbero nascosto l'identità dell'autore dell'omicidio. Anche nei confronti di Perticari è stata emessa ordinanza cautelare, ma ieri all'arrivo dei carabinieri presso la sua abitazione è risultato irreperibile. Per il 46enne l'accusa è di omicidio aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose.